quello che dico lo dico serenamente post partita quello che penso come ho sempre fatto ma non mi interessa concentrare la mia attenzione l'attenzione dei miei giocatori su questo perché come vi ho detto la scorsa conferenza stampa a me interessa non fare il conto di quello che ci sta mancando c'è mancato ma soprattutto considerare quello che di buono abbiamo ancora da fare oggi è venerdì è stato uno dei venerdì più più belli da quando io alleno il crotone perché ho visto una squadra che ha messo un'attenzione quella attenzione maniacale che piace a me io so benissimo che mancano sei partite voglio il massimo da chiunque in questo periodo sono anche particolarmente cruciato perché non voglio distrazione non voglio che nessuno non percepiscono capisce che noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa di straordinario vi avevo detto la scorsa settimana che i punti possono aumentare così come ci auguriamo possono ulteriormente diminuire quello che solo quello che mi interessa tutto qua no ma non è che è arrivato ritardo nel corso di un campionato e nel percorso di crescita che uno fa io ho sempre detto ci sono stati sarebbero stati momenti in cui potevamo fare molto di più e meglio dei momenti in cui stai facendo bene ma non raccogli dei momenti tipo la parete a coltorino parete che magari in altre circostanze avevamo perso la differenza la fa poi l'aspetto mentale io so benissimo che chiedo molto a questi ragazzi ma lo chiedo perché secondo me in parte rientra nel nell'ambizione di voler fare carriere per fare carriere deve avere un atteggiamento mentale straordinario non bastano le qualità tecniche o tattiche quello serve fino a un certo punto e poi perché si sono resi conto che a curare il particolare a controllare se stessi a lavorare in un certo modo mentale acquisiscono più auto efficace sentono più capaci non sanno non vanno dietro a cose che non servono e quindi sono la loro concentrazione è dirottata solo a se stessi e alla squadra e questo è quello che mi interessa io personalmente non è che temi qualcosa in particolare di nessun avversario so riconoscere la qualità degli avversari e credo di saper presentare la partita ai miei giocatori la sandoria decima classifica nella griglia di partenza iniziale dagli addetti ai lavori era considerato in quella posizione e il valore che alla sandoria dei giocatori forti ha trovato dei giovani probabilmente non troppo conosciuti e che adesso sono sulla bocca di tutti è una realtà che da anni fa questo campionato ha dei giocatori altamente qualitativi ma il crotone sa benissimo ogni volta contro chi va a giocare la differenza secondo me per noi è che dobbiamo essere consci che siamo sempre soli contro tutto e tutti e dobbiamo lottare contro tutto e tutti e contro noi stessi soprattutto noi stessi perché noi dobbiamo pensare che la nostra qualità sta nel percepirci gruppo il nostro leader sta nel gioco il nostro leader sta nel modo che abbiamo di stare in campo nell'umiltà che mettiamo nella voglia di crescita che costantemente questi giocatori ricercano ripeto noi abbiamo un'identità precisa e di conseguenza abbiamo anche degli interpreti che hanno giocato più di altri però ultimamente credo che dei giocatori che magari non avevano avuto la possibilità di di giocare con quantità stiano dimostrando le loro qualità e io glielo avevo già detto arriverà un momento in cui voi dovrete fare magari la partita decisiva non conta quante parità avete fatto ma quello quello che siete riusciti a crescere se dimostrerete cogliere te l'occasione sarete giocatori indipendentemente che abbiate fatto trenta o due partite la partita di torino è passata quasi inosservata ma da un punto di vista mentale è stata devastante per noi che arrivavamo da due da una settimana difficile con tre giocatori convocati nazionali gratificati da questo ma come avete visto abbiamo pagato qualcosetta dal punto di vista della fatica degli impegni precedenti eppure questi non mollano mai sono sempre lì convinti di potercela fare ed è qualcosa secondo me di straordinario che tutto la via tutto l'ambiente loro e loro qualità mentali stanno dimostrando che non solo ci stanno in questa categoria ma possono fare qualcosa di incredibile ma questo è venuto alla fine di un percorso siamo quasi alla fine del campionato questi giocatori sono diventati giocatori di serie a vedremo se riusciremo a mantenere la categoria perché per noi significa fare sempre qualcosa veramente di straordinario e impensabile in questo momento insomma ripeto nessuno deve deve mollare di un centimetro nessuno si deve lamentare nessuno deve chiacchierare inutilmente non serve ci interessa solo partire per genova e vedere se possiamo fare qualcosa di importantissimo io credo che che sia una partita chiave da questo punto di vista per per diverse cose ci può permettere di sfruttare magari un turno che difficile per noi difficile per l'empoli fermo restando che noi abbiamo ripeto ancora da incontrare delle squadre che sulla carta possono sembrare impossibili ma avete visto che nulla è impossibile è chiaro che bisogna essere non solo perfetti quasi ma anche avere quel pizzico di situazioni a favore che che dipendono sia da dalla nostra abilità che da altre cose che non possiamo controllare Grazie a tutti